Abbiamo due fronte con la selezione per il Mondial Universo, qui a Vocecchio. Che cosa succederà su questo patto? Si insegneranno ben sette cacciunie per un totale di 25 allievi. Una gara. Ok, giù. Sempre fronte, dorsali. Ok, doppio bicipito. Giù, le mani, dorsali. Doppio bicipito. Giù le mani. Dorsali. Dorsali, sempre fronte. Gira con le schiena. È un doppio bicipito di schiena, grazie. Ok, abbiamo sul marco due, non devo dire. Girate pronti giudici. Pronte? Le fitness toned. E la rubro di esce. Ok, allora. Doppio bicipito. Tutti insieme. Su, forza. Stessa posizione, dorsali. Giù. Stessa posizione, dorsali. Stessa posizione, dorsali. Ragazzi, aggiustate. Ragazzi, aggiustate un po' il numero, perché questo pare i giudici non li vedono bene. Scusate, ragazzi. Doppio bicipito. giù, mani, mani a fianco e col salto ok, bene fianco destro e spazzolto rasco allora ci siamo quando riguarda il lavoro e i giudici ci sono sedessi quando riguarda il migliore routine e assoluto abbiamo essenziale ok ragazzi allora le condizioni sono già pronto